ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di questa azienda molino vigevano dove mi ha mandata questa box si chiama master del cornicione proprio perché la molino vigevano ha lanciato una challenge che presto noi faremo sono molto contenta perché non vedo l'ora di mettere proprio le mani in pasta allora vi faccio vedere all'interno di questa box cosa troviamo allora partiamo subito da questo volantino diventa master del cornicione con la farina vesuvio che è della molino vigevano e appunto come vi dicevo prima è la challenge dove possiamo partecipare per appunto poter creare una pizza con le farine vesuvio con un bel cornicione e quindi ragazzi con questa challenge potete partecipare fino a giugno del 2023 che verranno selezionate le migliori pizze i migliori pizzaioli e saranno invitato un evento speciale dove la giuria decreterà il master del cornicione che sarà nominato ambassador della molino vigevano quindi io non vedo l'ora di poter partecipare e poter comunque vincere e quindi ragazzi vi invito a comunque acquistare questa farina vesuvio che è importante per poter partecipare a questa challenge della molino vigevano per diventare il master del cornicione allora mi mostro ancora nel dettaglio che cosa mi ha inviato molino vigevano allora qui abbiamo qui abbiamo questo grembiule con la scritta master del cornicione bellissimo tutto ricamato della sempre dell'azienda molino vigevano e marrone con questa tasca con queste due tasche enormi ed è davvero davvero carinissimo poi qui e qui abbiamo tre pacchetti della molino vigevano tre pacchetti di farina vesuvio è una farina di tipo zero con germe di grano macinata a pietra dietro ogni pacchetto di farina troviamo tutto l'occorrente quindi per quanto riguarda gli ingredienti l'impasto la lievitazione la stesura la cottura quindi tutto ciò che bisogna fare per poter creare questa pizza e per avere un bel cornicione alto grazie comunque le ferine vesuvio della molino vigevano poi qui abbiamo questa di qua che è la forbice per la pizza quindi che si può smontare ed è molto utile perché comunque con la pizza viene più comodo tagliare la pizza appunto con le forbici e qui abbiamo anche questa cassetta per far lievitare i nostri panetti di pizza con mettendo sopra appunto questa tovaglia firmata sempre a molino vigevano e poter fare lievitare così i nostri panetti è davvero carinissima io non vedo l'ora di partecipare a questa challenge con queste farine vesuvio e non vedo l'ora appunto di mettermi all'opera sfido anche voi a questa challenge e presto vi farò vedere il video di come realizzo questa pizza sono proprio contentissima e non vedo l'ora di mettere le mani in pasta e ringrazio ancora la l'azienda molino vigevano ciao 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 ciao